Approvata in giunta la riqualificazione per la cittadella della cultura a Chieti, dunque un progetto che si aspettava da tempo e che vedrà di nuovo a Chieti un polo dedicato interamente alla cultura. Sì, credo sia un risultato importante per la città, un accordo di programma che andava in giro dal 2015 su delega del presidente Marsilio che mi ha fatto seguire questa pratica con il suo costante interessamento. Siamo riusciti tra un po' di difficoltà che sono nel frattempo nate, in quanto l'università che all'inizio aveva deciso di mettere su all'ex caserma bucciante, quindi alla villa comunale di Chieti, una facoltà umanistica, con il nuovo rettore è tornato un pochino sui passi e ha ridotto l'investimento da 10 a 5 milioni. In più c'è stato il famoso passaggio delle consegne di funzioni amministrative con la famosa legge del Rio dalla provincia alla regione, insomma una serie di difficoltà che però hanno visto poi a un certo punto l'interessamento importante da parte del prefetto che ha indetto una serie di riunioni. Siamo riusciti ad arrivare alla quadra perché altri 5 milioni sono arrivati da parte del commissario Legnini per la sistemazione sismica. La regione Abruzzo ha rimodulato il proprio progetto con il trasferimento della biblioteca De Meis dall'attuale sede dove paghiamo un affitto piuttosto pesante, dal teatro Sender, sempre qui alla città della cultura, e la sovrintendente, l'ex sovrintendente, la dottoressa Bencarelli ha assicurato l'apertura da parte della sovrintendenza della direzione musei. Quindi un risultato importante, mi permetto di aggiungere, che completa un percorso perché dalla Civitella passiamo poi alla caserma Pierantoni dove anche lì è stato fatto il bando per 150 posti universitari. Quindi la città con questi due progetti comincia a disegnare un percorso diverso da quello attuale. Il prossimo step sarà la sottoscrizione dell'accordo tra il De Magno e la Regione. Il dottoressa Narni, rappresentante del De Magno, e il dottor Sorgi, rappresentante della Regione Abruzzo, hanno sottoscritto la famosa concessione che permetterà di fare il bando perché entro il 31 dicembre bisogna avere la giudicazione. Quali saranno le fasi successive? Le fasi successive sono aprire i cantieri perché è la fase più importante, bisogna fare immediatamente il bando e arrivare alla definizione e quindi alla giudicazione e poi i due anni per la realizzazione.